Nunzio Lanci, c'è Taviano e c'è la possibilità, anzi dire il dovere di dare continuità per agganciare quel terzo posto che è la portata di Ortona. Taviano è una partita difficile, nelle sue file il nostro agognato ex Milan Benz speriamo che non giochi una grandissima partita nonostante la sua squadra ne abbia bisogno. Sì, noi abbiamo urgenza, più che urgenza abbiamo bisogno di continuare questa striscia positiva che stiamo portando avanti e sicuramente vincere contro Taviano ci darebbe più tranquillità per avvicinare la parte alta della classifica. A questo punto diventa il vostro obiettivo ma c'è questo problema legato alle condizioni di Dolfo, come sta il ragazzo? Dolfo purtroppo non ancora riusciamo a capirne bene l'entità dell'infortunio in quanto per chi conosce e sa di questo tipo di infortunio c'è bisogno che possa assorbirsi il liquido che ne viene fuori poi subito dopo. Problema alla caviglia? Sì, problema alla caviglia, distorsione alla caviglia, le radiografie hanno dato esito negativo per le fratture però adesso bisogna capire con la risonanza magnetica un attimino i legamenti e tutto quanto il resto della caviglia come possa rispondere. Speriamo di recuperarlo il prima possibile, secondo me non al di sotto delle 3-4 settimane. L'ultima è iniziata con qualche problema il campionato di Tortona, zone basse della classifica, c'era un po' di preoccupazione, invece poi avete fatto un cammino importantissimo. Qual è stata la chiave, Nunzia? La chiave forse è aver acquistato la consapevolezza di un campionato che doveva essere così, piano piano lottare su ogni partita, lottare su ogni pallone. Piano piano anche la squadra sta acquisendo quella consapevolezza di essere una squadra che può fare bene, ha tutte le caratteristiche per fare bene, però dobbiamo riuscire a mettere questa consapevolezza in campo.